tutte partite registrate sono qua e porco dio sono 156 sui 166 ah verca madonna è impossibile è impossibile quante partite mi devo fare a 66 meno 57 è un'altra da 9.000 tu coglioni sarà il momento che farò finalmente ce l'ho fatta oh crutch vedendo mani vado a dormire e sono alla sveglia delle dieci e mezzo ma perchè non l'ha ancora scoperto il brada il no non il breta sto devo arrivare a livello 40 diventi di quale per mil l'ultimo completo quello tutto lì a rieco monster storm l'altra volta hanno aspetta non c'è storm è quella col grano non è dove c'è stanno tutti i langar quella lì è la fattoria è la fattoria del mandriano con tutto il grano quella è quella lì dove c'è b che c'è la chiesa due sui panzer che grossissima e se non è in caramato sei morto praticamente capito è pura vista per il sonno votarci sua sto gioco porco dio diventa soporifero bondotto vabbè no aspetto che f9 mila punti eh ho preso il caramato che volevo io vabbè non va avanti si è bloccato il caramato ok la perazza sarà chi ah boh a me si ma su b ma io non posso ma io ho tolto il ca b è la chiesa si ho sparato ho sparato un colpo di cannone eh perché poi vicino a b c'è c'è sta anche attenti lì obiettivo emil conquistato mi chiedo po' il capo pà po' il capo pà ciao ci sono coccaldate il bebito figura ci sono coccanato pure ottimo lavoro obiettivo bruno preso e' stanno arrivano da C e rimano a rompe i goionico ma al solido Chi è quello che va in giro Con la macchinetta Dobbiamo prendere gli obiettivi nemici O la battaglia è persa Ah ma allora sono un po' Porca dio Sto disboscando l'aria Ma che è Ma vada Ho avuto giù gli alberi E poi l'albero mi blocca Ma il GTA se non avete finito Porca troia Ho distrutto tutto Bravo coglione Porco coglione Oh c'è n'altro Ma come indistruttibile Abbiamo abbastanza obiettivi Da controllare la battaglia Niente a morte Dove andiamo? Andiamo su D Che è qua vicino Dai non si vede un cazzo Butto giù gli alberi Ma da guai Più veloce entro di me Mettiti a D Oh Come farei Oh Claudio Lì in fondo L'hanno shottato Eh c'è un cale armato Lì in fondo Abbandonò la nave Attento mi ammazzo Spara il colpo Spara il colpo Spara il colpo Eh non lo spara il colpo Non me lo fa a sparare Il colpo del cazzo Spara sto cazzo di colpo Ok bella lì Me l'ho distrutto Vieni Porca pupazza No c'ho le mine in mano Perché C'ho le mine E' una pistola che mi ha Prega il cazzo Andiamo su Eh Mi dice che c'è Mi dice che c'è gente qua Ma io non lo vedo Ah stanno qua Eh dai Lo colpisci Porco addio Ti è shotta lui Porca madonna Puttana Colpisci Ti è shotta lui Che male Alla effe La stiamo pigliando noi No Boh Cosa C'è qualcun altro Cosa Pesca Guarda come se ci fosse Qualcun altro Ma Morco dio Mi sono cagato sotto Pensavo fosse un caro armato Ah forse ho capito Dov'è questo Forse Nel corso delle galline Chi scommetti Chi ha sparato Dov'è che è Dov'è che è Ho uno shotato adesso Ma come è morto quello Molto strano Eeeh Oh Arrivano da qua Quasi Quasi Io ho capito Che il mio passaggio Si sbaglia Ancora 8 granato Si vabbè Non muore questo Oh Porco dio Oh Rotto il cazzo Porca madonna Ha rotto i coglioni Questo Non muore Non muore Non muore Morire Giustamente Ma lo toglie Ebbene Ma lo toglie Ma lo toglie Ebbene Ma lo toglie No, è alleato quello! No, però è alleato, boh! E il Kano Man mi dice che il Kano Man è alleato! Oh, è dietro! Boh, andando comunque subito! Ho fatto 30 corti, questo mi è passato sopra! Come se nulla fosse! Ma come 29 su 30? Ma non ho fatto 30 su 30, qualcuno di io! Ma 29 su 30, nel d'avviso! Quella pupazza, ma che si scema! Ah, sento, i nemici dietro mi girano, non c'è nessuno! Ma non ha senso, c'è! Ehi, stanno prendendo un botto di posizioni sia noi che loro, cioè! Allerta, l'obiettivo Cesar è stato perso! Ho fatto un botto di punti già subito! Eh, boh! Che loro stanno a camperare! Eh, boh! Ma a me non mi fa più spot già da sinistra! Sì, questo è per te! È una risposta! È una risposta! No, è una risposta! Ha, è una risposta! È una risposta! È una risposta! non si capisci dove sparano non si capisci dove sparano eppure siamo tutti cari armati qua ma che armati ora sono tutti qui tutti i 25 sono su di sembra strano guarda dove stanno abbiamo perso l'obiettivo emil manco dov'è emil e mo andiamo a prenderlo emil schiena del cazzo madone sul fianco l'ambiente ma si lascia un po' forza lì sembra strana perchè niente non me li fai animali soldati qui li stanno campando la sopra come c'è, non è male guarda va non è che vado più veloce vado un pochettino un po' più veloce non è male non è male non è male non è male ma è male facendo così comunque perdono loro la partita non di tanto però eh boh ah sarebbe buono un cecchino però anche a so cioè boh chi è che mi sta piglia sul lato gli spari che aveva metterla ci sono a sparare addosso eh appunto ah abbiamo quello lì è andato addosso guarda lì va cioè non si capisce questo oh cala porco dio porco dio e vabbè ma c'è gente davanti cerca madonna puttana questa mappa è brutta perchè è troppo aperta o c'è i mezzi io non c'ho un cazzo guarda quello come cazzo sta pilotare l'aeroplano guarda guardalo sembrava 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 di vedere eh luca quando ha portato cos'è che era il titan lì no mi ha portato più come che si chiara il volater il volater porco dio oh ma lui lo sai portare si si boom oh porco dio in fondo al mario porco ora dove andiamo andiamo su F per forza no c'è C e c'è D ancora però eh cambiamo si su F perchè è più vicino in gagee a 416 metri se ci arriviamo guarda quanto cazzo è lontano porco dio porco dio porco dio in mezzo alla terra di mezzo guarda qui c'è un cazzo non mi meraviglio adesso mi pia un cecchino perchè sta su F a camperare c'è palla di camperare qui in questa mappa non passa mai nessuno no anche gli altri stanno venendo questo qui no è meglio mi sa che è meglio andare un po' più avanti eh ah il G l'hanno già presa bella lì l'ho detto qua ah c'è stavo a vedere che spalla è questa spalla mmm mmm viene un caramato addosso ce lo fa conquistare prima che viene vai scappa lo stesso dov'è che arriva il caramato? eh arriva da qua oh il capo pazza vada di qua vada di qua pronto luco Erste Hilfe soldat eh ho ciò che è lì vi avviso che abbiamo perso l'obiettivo custam vier Erste Hilfe per i soldat ma cos'è che ti ha sparato? la mitraglietta del carro? oh vada di qua capo pazzo e se vuoi si può scappare non è per forza la battaglia non è per forza che non sta in battaglia andiamo su G che a 156 metri siamo a posto oh è cresciato che balle non poteva scendere ma poi un po' vitino miglia che madonna lì attenzione l'obiettivo Kuno è stato perso l'obiettivo Kuno è stato perso l'ho vista ho visto ho visto ho visto ho visto Sì, state camperati. Mmm, molto. Allora, stanno qui. Calcando in orbitale. Sì, quanti carri armati c'è per una sola persona. Sì, stanno qui. Ma la scena è andata. Sì, stanno qui. Allora, siamo chassati. Sì, stanno qui. ma che fa un colpo è schifo di mappa non mi sa se il cazzo sta mappa attenzione ci siamo presi l'obiettivo bruno attenzione ci siamo presi non 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 Sì, 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 sì. il vitale ma io l'ho dato ah gesù oh ecco io oh ah oh ah 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 Non c'è il fai! Non c'è il fai! Un laser! Non c'è fai giù, ragazzi Un progettivo Cesar è andato perduto Appigliano meno, giusto? Molto giusto, gioca così, no? Siamo presi l'obiettivo d'ora. L'obiettivo d'ora. Non so se si va a prender via. L'obiettivo, Emil. L'obiettivo, nessuno. Che cazzo è qua? Eh, sto cazzo. Con sto brega, oh. Ci godo, cazzo. Che ti hanno shottato come un birra. Ti hanno proprio shottato come un birra. Che cazzo è qua? Possiamo ancora farcela, soldati! Ma perché è dietro? Ah no, ma è il davanti fuori. Ah, non lo so. Porca pupazza! Non c'è, è normale. Non c'è, è normale. Andate a cagliare cazzo, va coglione. Non sono fermi qui Non sono fermi qua loro Non sono fermi qui 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 Abbiamo perso l'obiettivo Fritz Non sono fermi qui Non sono fermi qui Che pan colpo Non lo vedevo sulla mappa L'obiettivo Gustav è nostro L'organizzazione 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 È unوعine Dove Sono fermi Nessun Oh. Oh. Schifo è. Oh. Erste Hilfe! Greift zu! Erste Hilfe! Greift zu! Erste Hilfe! Greift zu! Erhobert das Ziel dort! Soldaten! fa niente club una notte se qua c'è basta per i 166.000 l'obiettivo bruno è nostro come razzino a marcio vi avverto abbiamo perso l'obiettivo d'ora molto uomo ti ho visto qui se ne è buono non è buono a piedi usare gli autobani questo è proprio buono che pupazza è proprio buono vi avviso che ormai abbiamo perso l'obiettivo emilio che si vabbè ti ho scelto a lui non ho scelto a tu che pupazza non so mai cazzo ha fatto colpì a questo ci sinceramente non ci sono riuscito abbiamo conquistato l'obiettivo cesar e vabbè oh è sempre lo stesso ci ha rotto i coglioni questo ha rotto il cazzo eh il nemico colpito dieci ha colmio colpito un cazzo un dieci sta sempre lì sta oh è impossibile è 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 un cazzo il 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 è il ci 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 no vedi che succhia stavolta succhia forte abbiamo preso l'obiettivo Frizz abbiamo preso l'obiettivo Dora non ho capito da dove mi sta sparando attenzione abbiamo preso l'obiettivo Frizz a livello 4 spara questo coso in mano senza minare che miseria ma perché stanno sempre su col boid boid il Oh, si sono da lì.